La crisi si fa sentire anche in tempo di ferie. Le vacanze più brevi riscano di non essere positive. Al ritorno ci fanno sentire scarichi, privi di energie. Uno stop lavorativo così non basta per affrontare un nuovo anno di impegni. Lo spiega uno studio dell'Associazione Europea Disturbi da Attacchi di Panico. I rischi? Dall'ansia alla depressione, dalle gastriti all'insonnia. Per il 60% degli intervistati la crisi economica pesa tanto sulla scelta della vacanza. Inoltre il 70% ha dichiarato di aver scelto la vacanza facendo attenzione al costo. Insomma la crisi si sente come e modifica le abitudini di vita in ogni aspetto.